Ciao a tutti da streamhard.com, quest'oggi facciamo vedere l'unboxing del nuovo Speedlink Torrid Gamepad Wireless, in questo caso in colorazione verde. Partiamo dall'analisi della confezione che, come possiamo vedere, presenta frontalmente l'immagine del prodotto con varie specifiche tecniche scritte più o meno in tutti i lati. Come possiamo vedere abbiamo la compatibilità in alto, espressa la compatibilità con il PC e con la PlayStation 3, anche se la forma e come sono disposti i tasti vi farebbe pensare alla compatibilità con l'Xbox 360. Dall'altra parte della confezione abbiamo il logo del Speedlink, abbiamo specificato il range del wireless di questo prodotto che è 8 metri, ha la frequenza supportata da 2,4 GHz e abbiamo anche la funzione Turbo Fire che dopo spiegheremo come funziona. Più in basso abbiamo alcune altre caratteristiche del prodotto, come la presenza della vibrazione e la durata della batteria dal full charge al completo scaricamento che è 10 ore di gioco. Abbiamo la presenza di due stick analogici e la presenza di due grilletti analogici. Inoltre abbiamo la presenza di 10 tasti. Più in basso abbiamo alcune caratteristiche del prodotto scritte in varie lingue, tra alcune inglese, tedesca e francese. La parte posteriore invece ci riporta sempre alcune caratteristiche del prodotto scritte in varie lingue, tra alcuni italiano. Abbiamo quei bollini che abbiamo trovato sulla parte frontale, riassunti nella parte posteriore. Abbiamo espresso la compatibilità con tutti i Windows, partendo dall'XP, al Vista, al 7 e all'8. Ma pensiamo quindi anche a 8.1. Più in basso troviamo le specifiche tecniche e il requisito di sistema e il contenuto della confezione. Inoltre abbiamo un'immagine del ricevitore wireless, in questo caso è in formato nano. I lati della confezione riportano tutto quello che abbiamo trovato sia nella parte frontale che posteriore. E aprendo la confezione cosa troviamo? Allora troviamo il bundle che è formato da un manuale di installazione, ovvero molto corposo, infanto è scritto in varie lingue, l'adattatore wireless, cioè il ricevitore wireless in formato nano e il cavo USB di ricarica. Oltre al bundle troviamo ovviamente il controller, come abbiamo detto in colorazione verde. Facciamo un zoom. Allora come possiamo vedere il formato ci ricorda perfettamente quello del controllo della 360. Anche se abbiamo alcune cose che lo differenziano da quest'ultimo, in quanto presenta le impugnature più spesse, ma più corte, ed inoltre abbiamo la presenza di queste gommature che aumentano il grip e il comfort. Come possiamo vedere dalla parte frontale abbiamo la presenza di due stick analogici posizionati come il controller dell'Xbox 360 e le frecce direzionali. Da parte centrale abbiamo il tasto speedlink che ci permette di collegare il controller ai rifiutori wireless. Abbiamo il tasto start e back e i tasti tipici del controller Xbox 360 a X, B e Y. Inoltre vediamo la differenza principale rispetto al controller originale è la presenza del tasto turbo che ci permette di abilitare la funzione rapid fire, ad esempio utile nei giochi fps. quindi se andremo a cliccare il grilletto per sparare e attivando questa funzione invece di un singolo colpo saranno sparati due. Premendo solo una volta il tasto speedlink si attiva la modalità direct input, mentre tenendo premuto per circa 4 secondi il controller si attivarà la modalità X input che è la modalità usata da giochi più recenti. Comunque abbiamo trovato vari giochi il nostro possesso e possiamo affermare che la modalità direct input si è rilevata quella più compatibile con la maggior parte dei giochi. Nella parte posteriore cosa troviamo? Troviamo innanzitutto l'ingresso micro USB, anzi min USB che ci permette di ricaricare la batteria interna da 600 mAh, infatti quindi non avremo la scomodità di trovare delle stilo per ricaricare il controller. Abbiamo i due grilletti che sono davvero comodi anche se un po' spicolosi al tatto e abbiamo i due tasti dorsali LB e RB. Posteriormente cosa troviamo? Troviamo i fori per le viti e troviamo questo piccolo bollino con un QR code al di sopra che ci rimanderà al sito, quindi alla scheda prodotto presente sul sito della Speedlink. Allora possiamo dire che per questo video piccolo video unboxing è davvero tutto, vi rimandiamo alla recensione scritta di questo gamepad che presenterà foto e le nostre impressioni su questo prodotto e per quest'oggi è davvero tutto, dallo staff di stream hardware un saluto e al prossimo video unboxing, ciao!